Ci sono state tante persone Se vuoi ti faccio la faccia dei miei bimbi quando dico babbo cucina Ah beh allora non cucinare, non ti avvicinare ai fornelli Io invece sai che cosa stavo pensando? Pensavo a tutti coloro che hanno fatto grandi, dolci e soprattutto il pane Un popolo di panificatori E chi meglio di Sara Papa ci può aiutare a capire che cosa fare, con cosa poi preparare Perché avete sentito nei mesi scorsi il lievito non è andato a ruba, non si trovavano le farine C'erano un sacco di cose che mancavano Allora Sara Papa, scrittrice che ha proprio riscoperto l'attenzione per il pane In qualche modo potremmo dire che ha fatto mettere agli italiani le mani in pasta È vero Sara Papa, buongiorno Buongiorno, buongiorno a tutti e anche a tutti gli ascoltatori Benvenuta a Mary Pop Live Sara Papa Allora vogliamo cominciare proprio dalle farine O cominciamo invece da questo lievito che ogni tanto sparisce perché tutti si mettono a fare pane? Sì, allora io direi che il giusto valore che dobbiamo dare al pane Che ricopre un ruolo molto importante nella nostra alimentazione quotidiana E quindi di conseguenza sulla nostra salute Quindi la scelta delle farine Certo Devono essere biologiche Che sono, non è una sciccheria del biologico Ma sono le farine dei nostri nonni Quindi noi dobbiamo cercare le farine integrali Grani italiani E quindi questa è la base da cui partire Altrimenti non c'è storia È inutile andare a comprare una farina 00 Che poi il nutrizionista di turno ci dice che ingrassa Ma dobbiamo utilizzare farine integrali Che rallentano l'assorpimento dei carboidrati Perfetto, quindi anche una notizia proprio da nutrizionista Per tenere d'occhio la linea E invece Sara Papa Dunque questi ritorni ai grani antichi Sono proprio dei ritorni Non sono delle scoperte recenti Proprio perché dicevi tu Sono quelle da nostri nonni Invece a proposito di nonni Parliamo un attimo di questo lievito E soprattutto vogliamo parlare del lievito madre Altra cosa di cui tutti si riempiono un po' la buca È il caso di dirlo E invece poi magari con informazioni non precise Allora il lievito madre è il prodotto più straordinario Che ci regala la natura E che non si compra al supermercato Perché basta avere della sempre buona farina Ritorno, acqua e pasta Si impasta e i microorganismi che ci sono nell'aria E nella farina, buona nella farina Creano una fermentazione, punto Poi oggi c'è chi aggiunge il miele Chi ci aggiunge lo yogurt Chi ci aggiunge di tutto di più No, acqua e farina E ce lo regala la natura Quindi ecco Si può aggiungere qualche altra cosa per la fermentazione? No, acqua e farina Però partendo da una farina Uno naturale Perché se no dobbiamo fare un pane a casa naturale Dobbiamo scegliere comunque una farina naturale Quindi il lievito madre ha bisogno solo di quello Le nostre nonne non utilizzavano nient'altro Se non acqua e farina E un'altra cosa, ma a livello nutrizionale Nemmeno è il caso di aggiungere qualcosa? Certo, a livello nutrizionale Oggi ci possiamo aggiungere veramente tanta roba Che vuol dire che Quando utilizziamo una farina integrale Possiamo aggiungere i semi di sesamo Che sono ricchi di calcio I semi di lino Ricchi di omega 3 Ma non solo In questo periodo sto utilizzando Una farina di vinacce Appunto parliamo di uva La pigiatura dell'uva Delle vigne adesso Ci sono delle aziende in Italia Che per non sprecare questa pigiatura Seccano le vinacce Le fanno polvere E quindi questo ha un grandissimo valore nutrizionale Di anticionine Fanno polifenoli Fibre, proteine Ecco quindi Ecco l'economia circolare Di cui noi dobbiamo oggi Pensare di non sprecare E' quello che dicevi prima Torniamo ai nostri nonni E non solo Poi diciamo che nella pasta madre Nel lievito madre No? Acqua farina E possiamo usare il termine Contaminazione In modo In modo Come dire Buono In modo buono Siamo pieni di Di microrganismi Nell'aria E nelle superfici Ecco Quelle creano le fermentazioni Le fermentazioni esistono da millenni Ecco Poi io nell'ultimo libro Anche di più Ho fatto anche le fermentazioni Con la frutta Quindi Cioè E' una ricchezza Che non Certo E' vero Sara Papa E' una ricchezza E' una ricchezza E' una ricchezza E' una ricchezza